Il nostro cameraman Marcello Montemurro è stato molto attento e ci ha segnalato questa particolarità questa scritta Make Road Safe, ovvero fate più sicure le nostre strade ed è una scritta molto importante prima di tutto per il messaggio di sicurezza al quale noi teniamo particolarmente e in secondo luogo perché è scritta sulla Lotus Renault che correrà nel campionato mondiale di Formula 1 con i piloti Nick Eiffel e Vitaly Petrov ed è molto importante non soltanto per la sicurezza ma perché un messaggio di questo tipo che parte di un team importante come il team Lotus un team storico della Formula 1 è una cosa che fa pensare ed è una cosa che sicuramente può portare un beneficio a tutti gli utenti delle nostre strade